Per noi conta tantissimo, per noi la società, la squadra, perché abbiamo saputo poco prima della partita che davanti avevano perso qualche punto, noi dovevamo per forza vincere per avvicinarci e abbiamo fatto il nostro, è stata una partita combattuta, loro gran bella squadra, partita con tanta tensione, tanti falli, potevamo andare sul raddoppio noi, potevano anche pareggiarla loro, ma diciamo è stata una bella partita, sono molto contento per il gol, assolutamente, perché ci tenevo tanto, perché ci tiene il presidente, la società, era un derby e quindi decidono, è stata una gran bella cosa, sono proprio contento.